La pasta, l'antipasco piemontese, perché è una cosa che si chiama così antipasco, le cipolline, le ricette, le balsanze, le olive, e praticamente poi fa due cose, due chicche. Il Piemonte, dovete sapere, c'è la più grande produzione, la più grande realtà delle nocciole. Le nocciole, tutti quanti conoscono le antenne, e loro fanno una nocciola al latte, che è una cosa eccellente, e una crema di nocciola invece di ciò che vuole.